E ancora sull'accoglienza, in Italia sono 3500 i minori non accompagnati fuggiti dalla guerra in Ucraina. Al giornale radio il prefetto Francesca Ferrandino, commissario delegato per la gestione e l'assistenza. In totale sono 58 i milioni di euro stanziati dal governo, denaro per l'accoglienza dei bambini minorenni non accompagnati fuggiti dall'Ucraina. Denaro che finirà direttamente nelle casse di quei comuni che gestiscono la sistemazione dei bimbi. Il prefetto Francesca Ferrandino, capo Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Viminale, è il commissario delegato all'accoglienza dei minori ucraini arrivati da noi soli. Il rimborso di 100 euro pro capite per i minori stranieri non accompagnati verrà educato ai comuni, sia nel caso di sistemazione in strutture autorizzate, sia nel caso in cui il minore venga comunque affidato ad un familiare. Minori ucraini non accompagnati dramma nel dramma ai cui i numeri sono sempre in costante evoluzione. E non del tutto definiti, anche perché non tutti si segnalano o vengono tempestivamente segnalati al Viminale. Ancora il prefetto Ferrandino. In questo momento sono censiti 3.508. Se noi non abbiamo la contezza assoluta del numero dei minori stranieri non accompagnati che arrivano, non possiamo rendere un ottimo servizio a questi bambini. Bruno Sokolovic, GR1